Benvenuti su Gossip Mania TV. Greta Rossetti e Sergio Dottavi Shock ex GF VIP non ci capiamo. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Il Grande Fratello ha concluso la sua ultima edizione da un po' di tempo, ma i suoi partecipanti continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica. Uno dei finalisti, Sergio Dottavi, ha recentemente pubblicato un post sui social che ha suscitato diverse interpretazioni, soprattutto in relazione alla sua presunta relazione con Greta Rossetti. Il ritorno sui social di Sergio Dottavi ha generato speculazioni sullo stato della sua relazione con Greta Rossetti. Il post ambiguo dello chef sembra aver sollevato domande sulla loro situazione sentimentale. Sergio ha scritto una storia su Instagram che molti hanno interpretato come una frecciatina in diretta a Greta. Molte persone mi hanno scritto, Sergio, dove sei? Fatti vivo! È bello sapere che pensate a me e che vorreste condividere le mie giornate. Tuttavia, se sono stato più assente del solito in questi giorni, è perché ho dovuto dedicarmi a riorganizzare la mia vita dopo aver trascurato tutto per mesi. Ci sono delle bellissime novità che presto scoprirete. Non voglio annoiarvi con storie poco emozionanti e divertenti, ma prometto che recupererò nei prossimi giorni. Sergio Questa storia ha alimentato le speculazioni sullo stato della relazione tra Sergio e Greta, nonostante le dichiarazioni dell'ex tentatrice di Temptation Island che ha cercato di smentire i rumor sulla crisi. Tuttavia, Sergio sembra aver lasciato spazio a interpretazioni ambigue sul suo stato emotivo. Non è chiaro se Greta risponderà al post di Sergio. In passato, la Rossetti ha dichiarato di aver bisogno di tempo per riflettere sulla sua relazione con Sergio e capire cosa vuole realmente. La coppia si era formata all'interno della casa del grande fratello e, nonostante alcune tensioni, sembrava solida. Tuttavia, le recenti pubblicazioni sui social di Sergio hanno suscitato domande sulla stabilità della loro relazione. Nel frattempo, Greta e Sergio continuano a trascorrere del tempo insieme, cercando di approfondire la loro conoscenza reciproca. Recentemente, la coppia ha trascorso del tempo in un ristorante insolito dove i tavoli erano dotati di altalene al posto delle sedie. Questa esperienza ha evidenziato la loro voglia di divertirsi insieme e di esplorare nuove situazioni. Nonostante le speculazioni sulla loro relazione, Greta e Sergio sembrano determinati a continuare a trascorrere del tempo insieme e a consolidare il loro legame, nonostante le sfide che potrebbero incontrare lungo il cammino. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo gossip.